e noi diamo il buongiorno a viaggio mannino ciao viaggio buongiorno graziano buongiorno siamo pronti attenti via nel vero senso la parola facciamo un countdown quest'oggi anche perché viste tutte le miserie di questa povera terra ci conviene andare nello spazio che dici assolutamente sì graziano le valigie sono già pronte la sonda spaziale ci aspetta e dobbiamo solamente che partire benissimo allora io direi la cosa più facile arrivare facile di questi tempi non è facile per niente andiamo sulla luna idealmente naturalmente dici bene la cosa più facile in senso teorico perché le missioni che si stanno in questo momento alternando nel tentativo di raggiungere la luna mostrano più in successi che successi e questo ci fa un po pensare in riferimento soprattutto a quelle che sono state le esperienze del passato quando nel 1969 i primi astronauti sbarcavano sulla luna neil hamström buzz oldrin che scendevano appunto sulla luna oggi invece tutto quanto sembra essere più difficile e ci pone anche dei punti di domanda su questo su questo aspetto perché com'è possibile che nel 69 con le tecnologie che erano lì presenti in quel momento si riusciva a portare gli astronauti sulla luna mentre oggi le difficoltà ci sono e sono anche molte ma procediamo insomma con ordine graziano perché dobbiamo innanzitutto rilevare che se da un lato la sonda giapponese purtroppo si è schiantata sul suolo lunare la sonda russa luna 25 non è riuscita neanche quella partita in agosto ad arrivare sul suolo lunare anche questa appunto trasformandosi sostanzialmente in un insuccesso e ricordiamo che luna 25 segue tutte le missioni che la russia aveva fatto precedentemente a partire ancora dai tempi dell'unione dell'unione sovietica ebbene chi invece è riuscito ad ottenere l'obiettivo è stata una sonda indiana portando l'india ad essere protagonista protagonista in quella che la conquista della luna in prospettiva la conquista dello spazio perché le ambizioni in riferimento allo spazio sono veramente sono veramente tante e la sonda indiana che fa sì che l'india sia il quarto paese ad aver raggiunto la luna dopo stati uniti unione sovietica cina e appunto l'india viene vissuta come un grande successo un grande successo soprattutto di un paese che sta facendo dei passi da gigante nel contesto globale non dimentichiamo soltanto da pochi mesi l'india ha superato in termini di abitanti la cina diventando il paese più popoloso del mondo e che a differenza della cina che ha una popolazione che invecchia sempre di più l'india invece ha una popolazione sempre più giovane tant'è vero che nel 2050 le stime dicono che l'india avrà un miliardo e settecento milioni di abitanti chissà forse la luna rappresenta un punto dove potersi trasferire in un prossimo futuro ma in ogni caso l'india ha raggiunto soprattutto quel punto che al quale tutti ambiscono in questo momento storico ovvero il polo sud lunare perché perché c'è il l'idea è ancora ovviamente non è ancora dimostrato ufficialmente ma si ritiene con una grande attenzione e possibilità che ci sia l'acqua nel polo sud lunare probabilmente acqua che deriva dallo schianto di qualche cometa ma che rappresenterebbe di fatto la possibilità la possibilità di poter andare a realizzare quel sogno ancora lontano dobbiamo sottolinearlo quel sogno lontano di creare una vera e propria base lunare in prospettiva per il futuro l'india che non si ferma la luna ma punta anche al sole e anche qui ci sono delle 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 missioni che sono già in in atto che sono arrivate anche a 9 milioni di chilometri dal sole che se noi andiamo a pensare che la distanza terra luna e di 400 mila chilometri sostanzialmente parlare di 9 milioni di chilometri dal sole significa essere praticamente là con tutto quello che ovviamente questo comporta in termini di difficoltà di andare a realizzare una missione di questo tipo in prospettiva si parla anche di una missione che dovrebbe portare una sonda a un milione di chilometri qualche cosa di sostanzialmente inimmaginabile ebbene l'india come detto in questo momento vive un momento di grande entusiasmo di conquista scientifica l'india paese sicuramente ai vertici per quanto riguarda tutto ciò che è inerente al mondo dell'ingegneria dell'informatica e questo successo rappresenta ovviamente un momento di grande soddisfazione e anche di valore nazionale se vogliamo in quella competizione che l'umanità vede al suo interno una competizione di una umanità che di fatto non è così unita nella conquista dello spazio perché se noi andiamo nel 1969 quando gli astronauti scendevano sulla luna portavano anche una targa una targa che diciamo celebrava quell'avvenimento una targa che non solo celebrava l'avvenimento ma vedeva una frase una frase in nome dell'umanità veniva fatta quella conquista ma c'era un aspetto di non secondaria importanza e che riduceva poi l'importanza e la bellezza di quelle di quelle espressioni perché poi in definitiva quella targa era firmata da richard nixon presidente degli stati uniti d'america come dire umanità sì però a guida statunitense ed è qua purtroppo il problema perché pensare alla conquista dello spazio e andarci separati ciascuno con la propria bandiera e non con la bandiera appunto dell'umanità del concetto di essere appartenenti al pianeta terra ebbene è qualche cosa che rende tutto quanto più difficile anche in prospettiva oggi perché già si stanno facendo delle valutazioni delle valutazioni attente su quelle che potrebbero essere delle vere e proprie dei veri e propri contrasti tra i terrestri nello spazio perché perché di fatto non esiste un diritto di proprietà da esercitare nel contesto dello spazio però è altresì vero che nel momento in cui qualcuno dovesse andare a prendersi dei pezzi di luna chi sostanzialmente direbbe all'altro spostati che qua ci devo venire anch'io sarebbe qualcosa di sostanzialmente difficile già si comincia a pensare come andare non solo a regolamentare il tutto ma come far fronte anche ad eventuali contrasti in quei in quei contesti insomma degli aspetti di non secondaria importanza ma che ci mostrano in ogni caso che si punta si punta molto allo spazio gli Stati Uniti come vanno gli Stati Uniti gli Stati Uniti in questo momento si trovano di fronte a delle difficoltà oggettive sì è vero sono partite le missioni Artemis ma è altrettanto vero che non si sa come poi fare sbarcare gli astronauti sulla luna al momento ci sono delle problematiche inerenti a questi aspetti tant'è vero che la NASA da una parte ma dall'altra parte SpaceX collaborano e sviluppano progetti una collaborazione probabilmente che porterà SpaceX a sviluppare una sonda che al momento però spaceship che al momento però non sembra dare quelle soddisfazioni che si vanno a cercare anche perché un progetto molto ambizioso un razzo che decolla in modo autonomo dalla terra che atterra poi che poi va ad allunare non ad atterrare va ad allunare sulla luna per poi tornare indietro e poter ripetere queste missioni insomma progetti ambiziosi ma che vedono distanze temporali nella loro realizzazione piuttosto e piuttosto importanti e l'unione europea l'unione europea doveva mandare o meglio il lente spaziale europeo doveva mandare una sonda su Marte anche una missione molto importante ma lì non sono subentrate delle problematiche legate agli aspetti tecnologici e alla difficoltà della conquista spaziale ma sono subentrati i problemi della guerra con l'Ucraina perché gli accordi per appunto utilizzare un razzo vettore che portasse questa sonda nello spazio erano stati presi con la Russia e la guerra con l'Ucraina ha fatto sostanzialmente saltare tutto non è saltata la sonda ma sono saltati gli accordi insomma come detto si guarda lo spazio con grande attenzione con qualche sospiro di fronte alla bellezza di tutto ciò che rappresenta ma poi quando si scede sulle questioni del nostro pianeta le questioni interne ebbene tutto quanto ci fa vedere una realtà ben diversa e pensare che siamo andati almeno così ci hanno raccontato sulla luna con il LEM che era una cosa quasi di carta stagnola non ho mai capito come va bene senti però l'uomo si è spinto in là nella ricerca dello spazio più profondo e l'ha fatto ad esempio con la sonda Voyager che tu mi dicevi prima di iniziare il nostro appuntamento si trova qualcosa come 25 miliardi di chilometri dalla terra è vero? Esattamente in particolare sono due le sonde Voyager la Voyager 1 la Voyager 2 che partirono nel mese di settembre del 1977 a distanza di pochi giorni l'una dall'altra precedute anche nel 72 e nel 73 dalle sonde Pioneer 10 e Pioneer 11 ma quelle che interessano maggiormente sono le Voyager perché perché ormai la Voyager 1 ha raggiunto e superato i limiti del sistema solare erano destinate all'osservazione soprattutto di tutto il contesto inerente a Giove e a Saturno e poi hanno proseguito le loro missioni ciascuna viaggiando su canali differenti la Voyager 1 in questo momento come detto ha superato i limiti del del sistema solare la cosiddetta il cosiddetto diciamo punto il cosiddetto confine del sistema solare entrando poi in quello che è lo spazio interstellare ma è altresì vero che ed è qui l'aspetto molto affascinante che si ritiene che il sole sia avvolto da quella che viene chiamata la nube di Hort la nube di Hort altresì anche definita come la culla delle comete là dove le comete si formano là dove le comete risiedono e da lì ogni tanto qualche cometa viene attratta nel contesto del sistema del sistema solare la nube di Hort è una sfera sostanzialmente che avvolge il sistema solare e si trova a 3,2 anni luce una distanza incredibile una distanza incredibile che porterà la Voyager a raggiungere quel limite semplicemente tra 30 mila anni un aspetto che ci fa veramente pensare come un qualche cosa di creato dall'uomo poi sia destinato a un principio così importante viaggiare nello spazio ma ci fa anche vedere come i limiti ci siano anche perché un aspetto di non secondaria importanza è che nel 2025 la batteria la batteria della Voyager si esaurirà e di fatto lì a quel punto il movimento rettilineo della Voyager 1 proseguirà senza però una spinta effettiva da parte di un motore e viaggerà a una velocità inferiore rispetto a quella che ha sempre comunque una velocità decisamente considerevole 61 mila chilometri all'ora questo permetterà alla Voyager come detto di raggiungere i limiti della nube di Hort tra 30 mila anni e per poi andare andare laddove tutti quanti ben chiare le idee non ce l'hanno potrebbe essere alfa centauri oppure altrove e questo ovviamente lo sapranno chi vivrà quelle quei momenti la Voyager 2 invece viaggerà ancora più in là se vogliamo perché tra 400 mila anni raggiungerà la stella Sirio che si trova a 8 anni luce dal sole insomma aspetti così che hanno dell'incredibile e come dicevamo prima ci fanno guardare al cielo alle stelle con grande attenzione con grande sospiro anche e con grande fantasia anche per sfuggire dalle questioni invece qui locali che sono ben diverse pensa quando fra 400 mila anni ce la racconteremo qui a buongiorno italia chissà quante cose potremmo raccontare di questa ventura assolutamente sì e probabilmente diremo le stesse cose parleremo della Voyager e delle varie guerre che ci saranno nel mondo va beh dai grazie allora nostro viaggio mannino anche oggi è stato affascinante questo viaggio e torneremo domani come al solito con il tuo punto grazie ancora e buon proseguimento di giornata ciao grazie ciao graziano grazie